Buonasera, benvenuti all'incontro sul sistema degli avvisi di ricerca rossi dell'Interpol e i suoi abusi per scopi politici. L'iniziativa, grazie all'onorevole Lia Quartapelle, che è segretario della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, è organizzata dal Comitato Italiano Helsinki per i Diritti Umani e dalla Fondazione Open Dialogue, che ha sede a Varsavia. Abbiamo con noi molti relatori, altri ospiti illustri, che io ringrazio per la loro presenza. Vi dico subito che gli interventi potranno essere in italiano, in inglese o in russo. Ringrazio gli interpreti per la collaborazione e sono distribuite in sala le cuffie per ricevere la traduzione simultanea. Dico anche che ringrazio Radio Radicale, che sta effettuando la registrazione e che renderà disponibili gli atti registrati di questo incontro, anche sul sito internet radioradicale.it. L'incontro di oggi è un'iniziativa che parte dalla constatazione che ormai sempre più spesso il sistema dell'Interpol, che è un'organizzazione internazionale fra le polizie di oltre 180 stati nel mondo, che è nata per favorire il loro coordinamento alla ricerca di persone che sono imputate di crimini comuni. Sempre più spesso questo sistema viene invece usato per scopi politici da alcuni regimi autoritari. Segnatamente ci sono stati dei casi che hanno riguardato anche l'Italia in mesi recenti di richieste improprie, in questo senso avanzate dal Kazakistan, altri casi hanno riguardato richieste della Russia o dell'Ucraina. Di tutto questo parleremo oggi. Io ritengo importante che si riesca a ricondurre questa organizzazione internazionale delle polizie al suo compito statutario che esclude tassativamente di poter utilizzare il sistema dei codici di ricerca per scopi politici. Passerei subito alle relazioni dando la parola per prima a Liudmila Kosloska, che è presidente della Fondazione Open Dialogue.